Ma tanto dobbiamo dire che questa concretezza dobbiamo dire grazie soprattutto alle persone che ci hanno lavorato da partire la nostra Polizia Locale, la Federazione Motociclisti, la Croce Bianca, al Liceo Cassini e al Presidente del Consiglio che insieme a Luca Lombardi sono stati promotori di questa iniziativa. Dunque un ringraziamento a loro, credo che sia un tema molto molto sentito, perché poi non male parliamo di motorini, parliamo di ragazzi di 14 anni dove salgono su una moto, secondo me non tutti hanno veramente ancora tutte quelle nozioni ed è giusto che tramite le scuole si vada a sensibilizzare su questo tema. Mi auguro che questo progetto possa anche ampliare altri istituti, così sarà, così vanno confermato stamattina che si farà, ma soprattutto anche ci siano dei ragionamenti sui monopattini perché è un altro mezzo che ultimamente mi preoccupa molto, considerato anche l'alta affluenza, ma soprattutto anche la pericolosità delle strade che abbiamo. Dunque grazie a loro, grazie a tutti coloro che ci hanno lavorato, credo che sia un passaggio molto importante. E allora il progetto Guido Bene, Guido Sicuro nasce da un primo contatto che ho avuto con la Federazione Motociclistica Italiana nella persona di Bellone, è un progetto di educazione alla sicurezza, laddove ovviamente via sicurezza ed educazione ci trova ovviamente aperti a qualsiasi tipo di iniziativa, al che abbiamo coinvolto appunto la dottoressa Ferrero tramite il comando di polizia locale con la dottoressa Erika Biondi Zoccai e la preside appunto del liceo scientifico di Sanremo, la dottoressa Ferrero, che insieme alla Corce Bianca abbiamo deciso appunto di costruire questo progetto che già in parte era confezionato. Una cosa che ci ha fatto molto piacere è la partecipazione a questo progetto anche della prefettura del Seno del Prefetto che ha creduto in questo progetto. Si divide in due fasi, una fase teorica a cui parteciperanno, ci diceva oggi la dottoressa Ferrero, circa 220 ragazzi delle quarte liceo, una fase teorica ed una fase pratica e poi una consegna dei diplomi in Consiglio Comunale ufficiale per far vedere il lavoro svolto dei ragazzi. Ringrazio fin d'ora le famiglie e i ragazzi che parteciperanno a questo progetto. Grazie.